Buonasera a tutti e rieccoci, ancora una volta siamo su Cannotv per tornare a parlare di cinema. Oggi parliamo di un film italiano del 1974, parliamo di un film che si intitola La Nipote. Siamo nel cinema pruriginoso di genere naturalmente tipico del periodo, debitore ovviamente del piccolo capolavoro di Salvatore Samperi, Malizia, dell'anno precedente. Il 1973 vedete la locandina di Malizia con questa iconica sequenza di Laura Antonelli sulle scale mentre pulisce i vetri che viene spiata da Turi Ferro. Il film si ambientava nella Sicilia negli anni 50, qui grosso modo succede la stessa cosa perché questa sequenza si ripete nella Nipote, ambientato sempre negli anni 50 in provincia di Rovigo, però quindi nel Veneto, ecco, con un doppiaggio che imita l'accento, insomma, il dialetto, ecco, sì, giapponese, il dialetto Veneto, stavo per dire il dialetto giapponese, no, il dialetto Veneto. Ora, La Nipote è diretto da Nello Rossati. Nello Rossati è stato un regista piuttosto interessante, cito Bella di giorno, moglie di notte, il titolo naturalmente si rifaceva Bella di giorno di Bunuel con Catherine Deneuve, ma cito anche L'infermiera con Ursula Andres, attenzione perché esiste un altro film pruriginoso dell'epoca con il titolo L'infermiera però è L'infermiera di notte con, mi pare, Gloria Guida e anche Mario Carotenuto, poi naturalmente L'infermiera al pari della poliziotta, dell'insegnante, della soldatesse, insomma, ha dato vita a tutte queste piccole, curiose saghe cinematografiche che però appartengono al periodo più pecoreccio della commedia sexy. Qui siamo, grossomodo, ancora all'inizio perché ci troviamo all'inizio, nei primi anni 70, nella prima metà degli anni 70, quindi secondo me siamo su livelli, a mio avviso, superiori, se non altro a livello tecnico, a livello registico. Dicevo, Nello Rossati ha diretto anche Una Donna di Notte, Django 2, Il Grande Ritorno, che era il sequel del film con Franco Nero, naturalmente di Sergio Corbucci, sempre con protagonista Franco Nero però giunto fuori tempo massimo, perché si parlava già della seconda metà degli anni 80, e poi un film piuttosto divertente, secondo me, che avevo visto all'epoca e che grossomodo mi ricordo con Renzo Montagnani, Duilio del Prete, Io Zombo, Tu Zombie e Gli Zomba, che era un mix tra commedia pecoreccia, commedia erotica e horror, naturalmente, cinema degli orrori, perché c'erano gli zombie. In Io Zombo, Tu Zombie e Gli Zomba c'era anche Daniele Vargas, caratterista dalla statura decisamente imponente del nostro cinema italiano, dall'aspetto rispettabile, insomma, con quella barba, con quei basettoni, Daniele Vargas, che in questo film costituisce un po' il mattatore, diciamo, della situazione, del caso, interpretando un po' uno sporcaccione, perché, insomma, il film si ambienta nella provincia di Rovigo di fine anni 50, Daniele Vargas interpreta un ricco industriale che va in questa sua proprietà estiva, una sorta di casolare, di cascina, insomma, insieme alla moglie, che entrambe aspettano l'arrivo del figlio di Vargas, che poi sarebbe il figliastro, insomma, della moglie di Daniele Vargas, che è interpretata da Annie Carol Edel, anche lei si spoglia generosamente, come pure altre attrici del cast, che fra poco vi dirò, in questo casolare arriva la nipote, appunto, di Daniele Vargas, che è interpretata da Francesca Muzio, che era un'attrice, insomma, che all'epoca aveva partecipato, ecco, ad altri film un po' del filone scollacciato, che andavano effettivamente di moda all'epoca, e la nipote, appunto, la nipote di Daniele Vargas, con la sua intraprendenza, sfruttandole le sue forme, il suo corpo acido ma conturbante, in un certo senso, riuscirà a invischiare nella sua rete, nella sua ragnatela, sia lo zio che anche il cugino, prendendo, peraltro, il posto della domestica di questa proprietà, che è interpretata da Orchidea De Santis, che nella locandina del DVD, locandina sicuramente successiva, non certo la locandina originale, anche perché la locandina originale compare nella quarta di copertina di questo DVD, Orchidea De Santis, però, viene spacciata per la protagonista effettiva del film. In realtà, Orchidea De Santis recita una parte secondaria, era un'attrice, appunto, nota per i ruoli scollacciati in parecchi film di genere, in effetti è fra le tre attrici che si spogliano, quindi, appunto, Annie Carroll Edel, che interpreta la moglie di Daniele Vargas, e Francesca Muzio, che interpreta, appunto, la nipote, tra tutte e tre le attrici che si spogliano, e quella che si spoglia più volte e più generosamente, anche mostrando maggiormente le proprie grazie, quindi, probabilmente, all'epoca, se non altro, costituì il principale motivo di interesse del film, però non è lei la protagonista principale. La parte principale è affidata, appunto, a Francesca Muzio, ci sono Daniele Vargas, attenzione, doppiato da Sergio Graziani, che è stato uno dei più grandi doppiatori italiani che abbiamo mai avuto, cito uno su tutti, Donald Sutherland, no? Tra i tanti a cui ha dato la voce, per cui, attenzione, che Sergio Graziani, insomma, è un doppiatore che sicuramente si è fatto valere nel corso della sua carriera lavorativa, e presenti sono anche Giorgio Artison, appunto, che fa l'amante della moglie di Daniele Vargas, che era, peraltro, un attore piemontese, originario di Rocca Canavese, che è, appunto, un paese in provincia di Torino, doppiato, anche lui, in questo film, da Pino Locchi, dal grande Pino Locchi, per cui c'è una certa cura, in realtà, ecco, tecnica, a livello tecnico, in questo film. La regia di Nello Rossati è tutt'altro che indifferente, a mio avviso, è una regia anche piuttosto raffinante, anche piuttosto elegante, che strizza l'occhio, naturalmente, a malizia, appunto, riproponendo la celebre sequenza, la celeberrima sequenza di la nipote, in questo caso Francesca Muzio, sulle scale al posto di Laura Antonelli, intenta a spolverare un lampadario, mostrando, appunto, le sue grazie, complice una gonna troppo corta, a Daniele Vargas, al posto di Turiferro, in Malizia. Io direi che, anche come impianto narrativo, la nipote è sulla falsariga di Malizia, ambientato in Veneto, anziché in Sicilia, siamo sempre negli anni 50, è sempre uno spaccato, un ritratto pruriginoso di una certa società conservatrice dell'epoca, in cui, però, in sottofondo, si muovono storie di corna, storie di infedeltà, storie di ipocrisia, naturalmente, se vogliamo, e questo desiderio sessuale, così forte, ma così celato, in qualche maniera, quindi ci sono, secondo me, diverse similitudini. Gli attori sono, a mio avviso, in parte. Daniele Vargas è abile nel suo ruolo di mattatore, naturalmente, non siamo, secondo me, ai livelli dei vari Renzo Montagnani, Lino Banfi, che poi affolleranno il tardo periodo, diciamo, del cinema erotico italiano, siamo su livelli decisamente più lievi, a mio avviso, più misurati, forse anche più contenuti, e il risultato complessivo, a mio avviso, è tutt'altro che disprezzabile, complice, appunto, anche una regia proposta in versione restaurata. Sì, perché il DVD che io posseggo presenta una copia restaurata del film, fatto decisamente singolare, contando che in realtà si tratta di un film decisamente poco noto, di ben poco interesse, se non presso gli appassionati strettamente di quel determinato genere, di quel determinato periodo del cinema italiano. Pensate che il film è stato completamente restaurato, salvo alcune parti che comunque sono state integrate nei contenuti extra di questo DVD che erano talmente rovinate da risultare totalmente irrecuperabili in vista, appunto, di un restauro. Il film viene proposto, appunto, in versione restaurata, devo dire, molto bella. Il restauro mette in mostra, secondo me, anche un'ottima fotografia con la quale il film è stato girato e complice, appunto, anche la regia, tutt'altro che indifferente, il doppiaggio di pregio utilizzato, appunto, per coprire certe, diciamo, certi difetti, forse anche del cast, degli attori, secondo me, consegna un film tutto sommato apprezzabilissimo, ecco, tutt'altro che disprezzabile. Naturalmente, occorre essere degli appassionati del genere per poterlo apprezzare. Nota interessante, nei contenuti speciali c'è il commento di Orchidea De Santis che interpreta, appunto, la domestica per tutta la durata del film, moderato da un critico cinematografico, ovvero Franco Grattarola. Quindi, diciamo, indizio di come effettivamente questi film, nel corso dei decenni successivi, a mio avviso, anche meritatamente, abbiano raggiunto una certa dose di interesse presso alcuni appassionati di cinema, subendo una vera e propria, vivendo, insomma, beneficiando, ecco, di una vera e propria rivalutazione in campo cinematografico, tanto da stimolare addirittura alcune compagnie di DVD, appunto, come in questo caso, al restauro. Io questo DVD l'ho recuperato al mercatino ad un prezzo assolutamente effimero. Manca, secondo me, in questo film, paragonandolo, naturalmente, a Malizia, che a mio avviso, è un piccolo capolavoro del genere, sicuramente caposaldo di tutto un intero filone cinematografico italiano, manca una colonna sonora all'altezza, anche perché tutti quanti ci ricordiamo del magistrale tema musicale di Fred Bongusto, peraltro, di Malizia, naturalmente, che l'ha catapultata nel mito, insomma, io credo che sia uno dei punti più interessanti, appunto, del film di Salvatore Samperi. Qui purtroppo manca una colonna sonora all'altezza che a mio avviso avrebbe giustamente sottolineato alcune parentesi, alcune scelte registiche, insomma, alcuni movimenti della macchina da presa piuttosto interessanti del film, però, nonostante la mancanza di una vera e propria colonna sonora, resta un film a mio avviso molto interessante da non perdere per gli appassionati di cinema, sicuramente tra i titoli meno noti dell'epoca, anche considerando, appunto, il filone in questione, il genere in questione, ma se potete, se riuscite, dategli uno sguardo se amate, appunto, il genere, perché potreste cogliere qualcosa di gradevole. Io vi ringrazio per l'ascolto, naturalmente, se l'avete visto, fatemi sapere che cosa ne pensate a riguardo e vi ringrazio per la presenza. Ciao a tutti, ci vediamo a voi piacendo al prossimo video.